Federico detto fatto esatto sì sono state settimane difficili quelle quelle lontane da san benedetto perché era una cosa che non pensavo potesse succedere cioè andar via come io che speravo non succedesse mai purtroppo è stata un'estate un po travagliata e sono arrivato a un punto in cui ammetto le speranze non c'erano più che la Samb riuscisse a iscriversi in Serie D avevo paura che ripartisse da categorie più basse quindi ho dovuto per una volta dare retta la testa e accettare l'offerta della Triestina che non smetterò mai di ringraziare perché hanno avuto un ottimo lato umano nel capire le mie esigenze nel capire la mia volontà perché appena poi la Samb ha vinto il ricorso e si è iscritto in Serie D io avevo già preso la mia decisione mi sono sentito col mister col direttore col presidente e ho deciso di tornare e poi ho parlato con mister e direttore della Triestina che sono stati molto molto comprensivi e quindi ovviamente mi dispiace averli lasciati a mercato chiuso ma purtroppo al cuore non si comanda e quindi sono felicissimo di essere tornato a casa. Ai tifosi cosa vogliamo dire su questo ritorno? Eh voglio dire che ovviamente io sono contentissimo e spero di vederli presto allo stadio la mia è stata una scelta di cuore, solo ed esclusivamente di cuore tutti mi hanno dato del folle e io penso che nelle più belle storie d'amore un pizzico di follia è un ingrediente fondamentale e quindi spero che questa mia follia possa un attimo dare un pochino più di entusiasmo a una piazza che ha vissuto periodi difficili e spero che questo entusiasmo ci porti a fare grossi risultati, a riportare la Samb dove merita che sappiamo che non è affatto questa categoria. È tutto molto difficile perché siamo partiti tardi, abbiamo fatto i ragazzi, abbiamo fatto la prima partita con solo cinque giorni di allenamenti però sono stati molto bravi con una squadra che lotterà per vincere. Ora quindi il percorso è sicuramente difficile ma sono sicuro che con l'aiuto della nostra gente, della nostra città possiamo divertirci quest'anno. Grazie e buon lavoro!